Pugno di ferro in un guanto di velluto. E questa è l'espressione che ha usato il neoassessore alla polizia municipale di Pescara, Gianni Teodoro, alla sua prima uscita ufficiale dopo il rimpasto che l'ha portato all'interno della giunta Alessandrini. Teodoro ha descritto così le linee guida del suo lavoro in un settore strategico dell'amministrazione comunale di Pescara. Teodoro, affiancato dal sindaco e dal comandante della municipale Maggitti, ha inteso rispondere così agli ultimi episodi di degrado verificatisi in città, la donna trovata morta sotto il tunnel della stazione centrale e il bagno con tanto di shampoo all'interno della nave di Cascella. Alessandrini e Teodoro, nel ribadire la necessità di collaborazione da parte dei cittadini, annunciano tolleranza zero contro chi non rispetta le regole. Certo, tolleranza zero. Toleranza zero perché noi raddoppieremo il numero degli agenti sulle aree, quelle già individuate, grazie anche alle segnalazioni ricevute in questo periodo. Questo per poter applicare appieno il decreto Miniti, che laddove vi è un reato, un illecito amministrativo, se lo stesso viene ripetuto nell'arco delle 48 ore e dalla stessa persona e viene chiaramente fermato nuovamente da parte degli agenti della Polizia Municipale, noi possiamo anche avviare il procedimento del cosiddetto foglio di via. A Pescara sono in arrivo rinforzi stagionali, dice il comandante della Polizia Municipale Magitti. Si spera così di fronteggiare quella che sta assumendo i contorni di una emergenza degrado. Adesso abbiamo deciso con l'amministrazione, dato anche quelle che sono le situazioni di carattere legate alla parte finanziaria, di avere questo incremento di personale proprio per cercare di dare un maggior impulso a quelle che sono attività che adesso si vedono come straordinarie. Sicuramente il mese di dicembre occorre perché una città come Pescara è sicuramente piena di eventi ed altri. In questi due mesi cercheremo invece proprio queste attività minime di presidio, minime o meglio basilari e preventive di presidio e di presenza sul territorio di implementarle ulteriormente.